Vi ringrazio di essere intervenuti per il nostro compleanno, 25 anni che esistiamo, speriamo che qualcuno riesca a farci esistere ancora 25 anni, io no perché comincia ad essere troppo vecchio per altri 25 anni, vi ringrazio di essere qui, avete a disposizione un po' di attrattive e adesso di sordite e questo non ci posso fare niente, un coro, un'orchestra e poi uno che suona il tamburo, che è durissimo, lo è andato a finire, il tamburista è là e quindi mi ha già triturato parecchio prima che arrivaste voi, quindi noi continuiamo così, vi ringrazio ancora, divertiteli che questa è la cosa più bella che potete farci come regalo, grazie e arrivederci al prossimo anno. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!